Veniamo da tre vittorie consecutive, tre buone partite che ci danno grinta e consapevolezza, quindi ci stiamo allenando bene, siamo cariche, ci teniamo a concludere questo giro dell'andata in maniera positiva per poi ricominciare con quello di ritorno perché alla fine si sa che è quello che determina il campionato e quindi in bocca al lupo a noi.